Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 18 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Partner e amici in buona sintonia. Finalmente, col favore di Mercurio e di Giove, soci in divertimento, il partner e gli amici oggi si vedono di buon occhio, pronti a trascorrere una piacevole serata insieme. Punto interrogativo sui figli. Dopo le ultime distruttive esperienze, le piccole pesti starebbero bene dalla nonna, ma vi dispiace tenerli a distanza anche stasera, già li vedete così poco e hanno tanto bisogno di voi. Mezz'oretta di raccomandazioni prima di raggiungere il gruppo, decidendo di accettare il rischio, sostanzioso con urano in quadratura alla luna, anche quello di finire in polemica. Svecchiatevi, dunque, e con voi anche luca e atteggiamento, date la mano al partner e fate un giro in centro o se li avete apportata al parco o in spiaggia, tornando più ragazzini dei vostri figli. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigie malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. L'amore si lascia desiderare. Cercate il dialogo con l'altro per chiarire la situazione altrimenti le acque si confonderanno ancora di più. Il buon umore non mancherà di cancellare qualche brutto momento passato di recente. Concedetevi del riposo, ne avete bisogno. Oggi qualcuno vi pensa e vorrebbe parlarvi, se siete sicuri di non volerlo ascoltare fate in modo da evitarlo. Una notizia che arriva per posta vi darà fastidio e vi irriterà, cercate di non innervosirvi più di tanto tutto si risolverà al meglio. Notizie inattese potrebbero giungere, soprattutto in campo sentimentale. Chi deve prendere una decisione può farlo tenendo conto che ha a disposizione del tempo utile. Insomma, non prendete decisioni affrettate. Affrontate tutto in modo grintoso e con determinazione, oggi è una di quelle giornate in cui la vostra esitazione potrebbe dare dei vantaggi agli altri. Sfruttate la grande energia di oggi. Prima di fare qualunque passo oggi misurate bene le vostre forze e non fatelo mai più lungo della vostra gamba. Meglio per un giorno pensarci di più e meglio su quello che pensate di fare. La prudenza vi premierà presto. Oggi potreste ricevere un messaggio misterioso o una telefonata inconsueta, non sforzatevi però di capire cosa si nasconda dietro. Potrebbe essere anche uno scherzo innocente. Oggi elettrodometici, auto e quanto altro potrebbero darvi delle piccole noie, niente di eccezionale, ma sicuramente vi faranno spazientire e vi renderanno la giornata nervosa. In questa giornata dovreste ascoltare un po' di più il vostro istinto, piuttosto che dare retta a ciò che la gente vi dice. In amore potrebbero venire al pettine certi nodi e dovrete mostrarvi più comprensive e disponibili del solito verso il punto di vista del vostro partner. Avete forse lavorato troppo di questi tempi ed anche i vostri rapporti interpersonali ne hanno risentito. Sarebbe meglio concentrarsi su altro come ad esempio il lavoro o gli amici o altri affari, invece di perdere il vostro tempo dietro a situazioni frivole o incerte. Una scena planetaria stimolante vi spinge oggi a uscire allo scoperto e ad osare. Potreste infatti riuscire dove molti altri hanno fallito e, se non proprio raggiungere l'Olimpo, almeno potete arrivare a sfiorarne la vetta. Urano, in angolo fortemente provocatorio dal segno vostro nemico amatissimo del toro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di agosto, non vi fa fermare un attimo e vi stimola a brigare e a muovervi senza posa, per migliorare tutto attorno a voi, allo scopo di dare e ottenere sempre di più. Una salutare pausa di relax ve lo impone la famiglia in serata, mettendo temporaneamente da parte tutto quel che bolliva in pentola. Vorremmo dire ai nati leone che non bisogna per forza in pochi giorni ottenere tutto. Giove è favorevole quindi siamo convinti che tanti hanno già ricevuto una bella conferma o magari rispetto ad un esame che avevano paura di affrontare stanno meglio ma in questi due giorni può sfuggire qualcosa. Ci si può sentire un po' giù di corda. Questo non indica assolutamente una incapacità di andare avanti ma solo la necessità di prendere il giusto tempo per se stessi. Cercate di essere più razionali e concreti in questa giornata, specie quando vi troverete a dover affrontare questioni e situazioni, che conoscete perfettamente, ma che in passato vi hanno messo in difficoltà. Non è il vostro forte essere in prima linea nella soluzione di problematiche pratiche, ma c'è sempre una prima volta ed è bene affrontare certi ostacoli, per crescere e maturare. Non siate da meno rispetto agli altri. Contrariati dall'opposizione lunare, ma non mollate, tipico del vostro ottimismo che vi fa guardare ai fattori favorevoli oltre a quelli contrari. A sostenervi provvedono Giove e Marte Focus Intrigone e Mercurio Brillante in se stile. Amore ed Eros La passione è un'altra cosa, ma se vi basta un'intesa profonda, fondata su interessi culturali e valori comuni, allora ci siete, la persona che avete accanto è perfetta per voi. Se invece il partner tiene il muso lasciatelo a cuocere nel suo brodo, la serata è perfetta per uscire con gli amici, divertirsi, ballare, se poi avete il progetto una partenza e la vostra dolce meta continua a negarsi, vorrà dire che il weekend lo trascorrerete ciascuno per conto proprio, un po' di distacco ogni tanto fa bene alla salute e anche all'amore. Cari leone, potrete sicuramente avere qualcuno che vi capisce ma prima dovete fare pace con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle tensioni, cercate di gestirle con tranquillità. Avrete poco tempo da dedicare all'altro ma, quel poco tempo, dovete essere capaci di renderlo speciale. Solo così lo avvicinerete di più a voi e non gli farete soffrire la vostra mancanza, fisica e non solo. Non vi piacciono le relazioni superficiali, i flirt, i rapporti dove si misurano protagonismi e vanità. Lo dimostrate allontanando una persona che inizialmente vi aveva convinto, ma ora vi sembra vuota e priva di consistenza e pure di quel fascino che inizialmente vi aveva ammaliato. Lavoro e denaro? Gli altri vi fanno da specchio, riflettendo quei lati del carattere che preferireste ignorare, la supponenza, l'autoritarismo, la megalomania e quel filo di teatralità che vi farebbe sorridere. Se non appartenesse proprio a voi. Ecco perché oggi siete così litigiosi, guai a trattare affari in giornate come questa, tutta schermaglia e nulla di fatto. Buon esito di un esame universitario o successo sportivo, dunque festeggiate. Avete tante idee, sarà il caso di annotarle e non lasciarle vagare nelle tere. Perché avete intuizioni davvero interessanti e non è il caso di farsele scappare. Lavorateci su con metodo Creatività non significa sempre caos Il vostro talento professionale non si discute e lo toccano con mano colleghi, collaboratori e chi è al di sopra di voi Un bel sole in angolo positivo vi restituisce, in una dimensione sociale riconosciuta in ufficio, i meriti di competenza, rigore, abilità che da sempre possedete Benessere Qualche problemino all'attivo, dalla sensazione di stanchezza a quella di gonfiore, sintomi sempre più evidenti di uno stato infiammatorio Se riguarda l'addome forse avete dimenticato le vostre intolleranze, ma se a gonfiarsi sono gambe e piedi Sorvegliate la circolazione, risente del rialzo delle temperature Il sistema scheletrico e la pelle, così come i capelli, i denti, le unghie, l'orecchio e le ginocchia sono supportati dalle verdure Ricche di sostanze nutritive e dalle alghe Cerca di essere informato sugli aspetti specifici di una dieta sana, può essere anche divertente Per lei, nulla da temere, lui è un campionario di fedeltà, tuttavia a quell'oca giuliva che gli gira intorno vorreste dirgliene quattro E lo farete, a voi la dialettica non manca, a lei, invece, sì Per lui, la vostra lei è proprio in gamba, amorevole coi pupi, simpatica con gli amici, tollerante con voi, anche quando vi meritereste una scenata, ringraziatela di esistere Colore delle emozioni, arancione Barometro dell'umore, variabile con schiarite Pagellina del giorno Sentimenti, 7, Attività, 9, Finanze, 7, Beneessere, 8 Grazie per aver guardato l'idea Spero di vederti presto